Hanno macinato chilometri per vedere all'opera il nuovo Bari, anche solo per un giorno. C'è tanta curiosità e tanto entusiasmo da parte dei tifosi che hanno la bocca buona dopo il finale di stagione vissuto. Ma anche il mercato sta tenendo accesa la fiammella della passione. Il sogno resta la Serie A diretta ed è inutile nasconderlo. Questi ragazzi meritano il massimo sostegno quest'anno? Certo, lo meritavano già lo scorso anno perché sono stati straordinari. Quest'anno ancora di più perché hanno dietro una società che li sostiene e quindi hanno una tifoseria che li sostiene ancora di più, così come è successo l'anno scorso. Il miglior acquisto fino a questo momento? A me piace molto De Luca, però credo che il miglior acquisto sia Ciccio Caputo. Cosa ti aspetti da questa stagione? Mi aspetto sicuramente che ci sia comunque un buon risultato da parte della squadra. Certo, il sogno sarebbe tornare in Serie A, però naturalmente se c'è l'impegno comunque noi apprezziamo comunque, basta che sudano. È importante divertirsi dai? Certo, questo sì. Il calciatore più bello che hai visto fino a questo momento? Più bello o no? Più bravo magari Marco Romizzi. Che poi le donne adesso sono diventate davvero esperte del calcio, è sempre più donne allo stadio. Io seguo il Bari da quando avevo quattro anni. Merito del papà che anziché portarla a forma intera l'ha portata qui a vedere il Bari. No, non è vero. È merito suo che mi ha riportato allo stadio dopo trent'anni di assenza. E come mai trent'anni di assenza? Lasciamo perdere.